Per le interviste impossibili abbiamo qui oggi la professoressa Maria Geppert Mayer. Buongiorno professoressa Geppert, che bello ricevere una donna a premio Nobel. Certo, in fisica non ce ne sono molte, solo tre. So che lei ha dovuto lottare duramente. Sono sempre stata indipendente e attratta dallo studio, dalla scienza e dalla tecnica. A miei tempi le donne non dovevano avere una grande educazione, ma per fortuna la prima guerra mondiale aveva fatto strage di uomini. Quindi le donne erano richieste anche nelle fabbriche e c'era bisogno di formarle anche a livello matematico. Io sono nata a Katowice, che adesso è in Polonia, ma a quel tempo faceva parte dell'impero tedesco. E poi ci spostammo a Gottinga. Là c'era una scuola privata, gestita da suffragette, che mirava a preparare le ragazze per l'università. E mio padre, che mi incoraggiava sempre a studiare, mi iscrisse. Grazie a loro riuscii ad entrare a 17 anni all'università in matematica. Consideri che all'esame di ingresso eravamo in quattro della mia scuola e 30 ragazzi. Noi entrammo tutte e dei ragazzi solo uno. Eravate più motivate? Certo, lavorai duramente e mi interessai alla fisica. La mia tesi di dottorato fu lodata come esempio di chiarezza. Poi per fortuna conobbi il mio futuro marito, un americano che lavorava come assistente di James Frank e ci trasferimmo in America. Non so che fine avrei fatto nella Germania nazista. E dove siete andati? Lui, Joseph Edward Meyer, era un chimico. Lavorava alla Johns Hopkins University, ma le regole rigide contro il nepotismo impedirono che mi potessero assumere come ricercatrice. Trovai quindi lavoro come segretaria traduttrice nel dipartimento di fisica. A volte il troppo stroppia. Già. Inoltre, lì alla Johns Hopkins, nessuno si interessava di fisica quantistica. E quindi lavorai a distanza, tramite lettere, con Born e Frank, andando ogni tanto in Germania. Ma con l'avvento del nazismo, i miei colleghi in Germania perciero il lavoro e ci demmo da fare per aiutarli. Poi venne licenziato anche mio marito a causa mia. A causa sua? Che cosa aveva combinato? Nulla. Ero tedesca e la Germania era entrata in guerra con gli Stati Uniti. Quindi non ero più tollerata. E poi ero donna. Ci trasferimmo a New York, dove mio marito trovò lavoro alla Columbia. Ma io dovetti lavorare gratuitamente. Però lì incontrai Harold Urey e poi Enrico Fermi, con cui collaborai. Ah, e poi? Nel 1941 ebbi il mio primo lavoro pagato, come insegnante part-time in un liceo. Poi nel 1942 entrai nel progetto Manhattan, con un posto sempre part-time da ricercatrice, sulla separazione gassosa degli isotopi dell'uranio. Nel 1946 mio marito tornò dalla guerra e divenne professore all'Università di Chicago. A me venne offerto un posto, sempre volontario. Nel 1946 fu fondato l'Argon National Laboratory, un laboratorio di ricerca nato direttamente dal progetto Manhattan per la ricerca sulle energie nucleari a scopi pacifici. Finalmente ebbi un posto pagato, ma per fare ricerche di tipo tecnico sui reattori nucleari. Nel tempo libero continuavo le mie ricerche sul nucleo atomico e solo nel 1960 diventai professoressa di fisica presso l'Università della California a San Diego per insegnare i miei argomenti preferiti. Nel 1963 arrivò il Nobel. Ce la fa a raccontarci le sue ricerche in termini semplici? Non è facile, ma ci posso provare. Come sapete, il nucleo atomico è quella parte dell'atomo che contiene praticamente tutta la massa. Il nucleo è piccolissimo rispetto all'atomo, il suo diametro è circa 1 su 100.000 di quello dell'atomo. Si sa che il nucleo è formato da neutroni e protoni e che ci deve essere una forza intensa che lo tiene insieme, detta anche interazione forte. dato che i protoni sono carichi positivamente e si repellono, e a quelle distanze la repulsione è molto intensa. I neutroni quindi funzionano un po' da colla. I protoni e i neutroni sono molto simili, a parte la carica elettrica. Il primo modello del nucleo atomico fu formulato nel 1935 da Bethe e Weizsacher, basandosi in gran parte su dati empirici. In questo modello il nucleo è rappresentato semplicemente come una goccia di un liquido e come in tutti i liquidi c'è un termine di volume e un termine superficiale, dovuti all'interazione forte. Si sa che quest'ultima agisce su piccolissime distanze, quindi un nucleone, ossia questo è un termine che indica sia un protone che un neutrone, sente solo l'interazione con i primi vicini, proprio come una molecola in un liquido, e per questo i termini di volume e di superficie dipendono appunto solo dal volume e dalla superficie. Viceversa, l'interazione elettrostatica tra i protoni agisce su distanze lunghe, quindi ogni protone sente l'interazione con tutti gli altri, e quindi questo termine, che è repulsivo, dipende dal quadrato del numero delle cariche. C'è poi un termine che tiene conto del fatto che protoni e neutroni sono fermioni, quindi devono occupare i livelli sempre più alti, come del resto fanno gli elettroni. Però i livelli dei protoni e dei neutroni sono distinti, dato che si tratta di particelle diverse. Quindi, se c'è uno squilibrio tra il numero di protoni e neutroni, quelli più abbondanti devono andare a occupare i livelli troppo alti, aumentando l'energia del nucleo. Infine, c'è un termine che tiene conto dello spin dei protoni e dei neutroni spaiati, perché queste particelle hanno anche un campo magnetico associato. Questo modello spiega bene perché i protoni e i neutroni sono presenti sempre in maniera proporzionata, con un po' più di neutroni rispetto ai protoni, e perché c'è un limite al numero atomico per avere nuclei stabili. Inoltre, spiega il meccanismo della fissione, che è analogo alla rottura di una goccia di liquido troppo grossa rispetto alla sollecitazione, però non spiega le transizioni nucleari, che sono analoghe a quelle elettroniche, solo che emettono raggi gamma invece di radiazioni luminose o raggi X. Il mio modello è in gran parte analogo a quello elettronico, con degli strati che vengono riempiti e in cui si assiste ad una modificazione dell'energia del livello a causa dell'accoppiamento tra spin e orbita, di nuovo una cosa analoga a quella che succede per gli elettroni e che mi fu suggerita da Fermi. Ecco come la descrissi. Pensate a una stanza piena di ballerini di balser. Supponiamo che girino per la stanza in cerchio, ogni cerchio racchiuso in un altro. Quindi immaginate che in ogni cerchio ci possano stare il doppio dei ballerini, facendone girare una coppia in senso orario e un'altra coppia in senso anti-orario. Quindi aggiungete un'altra variazione. Tutti i ballerini girano ruoteando su se stessi come trottole in cerchio intorno alla stanza, ciascuna coppia che volteggia e gira intorno. Ma solo alcuni di quelli che vanno in senso anti-orario ruotano in senso anti-orario. Gli altri ruotano in senso orario mentre girano in senso anti-orario. Lo stesso vale per quelli che danzano in senso orario. Alcuni volteggiano in senso orario, altri girano in senso anti-orario. Un'immagine molto poetica. Ma a che serve questo accoppiamento spin-orbita? A mescolare tra loro i livelli energetici e a separarli in gruppi. In questa maniera si riescono a spiegare i famosi numeri magici, ovvero 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126, che danno nuclei particolarmente stabili e sono analoghi ai gas nobili della tavola di Mendeleev, ovvero al riempimento di uno strato. Una domanda personale. Marie Curie è stata scienziata e madre, mentre molte altre scienziate donne non hanno messo su famiglia, o quantomeno non hanno avuto figli. E lei? Io ho avuto due figli, un maschio e una femmina. Quindi non è vero che una donna, per riuscire a trionfare, deve sacrificare la famiglia e tutto il resto da successo? Bene, le ringrazio molto per la sua partecipazione a Radio Mocha. Tanti saluti anche a voi. Tanti saluti anche a voi.